Grazie a tutti. Abbiamo anche cambiato tutti i corpi illuminanti di quella strada, sono termopoli di mercurio, adesso sono lambo del sodio, prima aveva una potenza di 125 watt, adesso ne hanno una di 100, quindi il consumo è del 20% in meno. Questo è un progetto più ampio che stiamo comunque portando avanti, che riguarda il proprio risparmio energetico nell'ambito di illuminazione pubblica, utilizzando il proprio sistema del cambio dei corpi illuminanti. Come uno a casa proprio cambia la lampadina, noi cambiamo i corpi illuminanti sulle strade, per ottenere maggiore efficienza e una riduzione anche dal punto di vista del consumo energetico.